Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Pippo e Viu e oggi siamo qui per recensirvi le riviste di Trolls e di Super Wings bravissimo Pippo eccoci qua finalmente con un altro video dove vi recensiamo delle riviste era ormai tanto tempo vero Pippo era da un bel po' che non vi recensiamo più riviste quindi rieccoci in particolare Super Wings e Trolls allora sì da quale vuoi partire Trolls ok quindi ci lasciamo per ultima Super Wings di cui sapete già che vi facciamo ogni volta la ricetta perché quella rivista di Super Wings ha sempre all'interno una ricetta in base al al paese che si visita in questo giornalino ovvero adesso c'è Venezia si adesso poi è l'Italia questa volta comunque lo vedremo meglio in particolare quale città allora vediamo un po' il regalo di Trolls comunque abbiamo già recensito alla rivista scorsa ed è l'ultima rivista appunto dei Trolls vi lasceremo il link qua sopra quindi cliccate e poi andate a vedere il video ok prima la rivista e poi dopo il regalo va bene allora vediamo un po' ecco qui il regalo la Troll Love Box appunto quella che ha Pippo allora Dreamworks Trolls nuovo magazine ufficiale una Troll avventura fumetti beh posso sapere sì questa qui ragazzi è appunto di marzo e il prezzo è 3,99 euro ed è la Pompon Edizioni e poi anche giunti anche nell'acqua di Pompon Edizioni bravissima anche quella di Super Wings allora come sapete in queste riviste ci sono tantissime cose da fare da diamante ad esempio questo qui bravo crea la ruota della fortuna wow che bello poi l'indice appunto come tutte le riviste la mia amica medi qua c'è tutto da colorare ah eccola qui qua c'è la storia la storia fumetti bravissima poi ah c'è anche un test quindi fantastico e Pippo adoriamo i test capelli da troll poi l'ora dell'abbraccio qua altre cose ah crea il tuo album dei ricordi scatta una foto mentre ti diverti con i tuoi amici e segui questi semplici passaggi ragazzi noi vi abbiamo detto già dall'altro video dallo scorso video di inviarci i vostri lavoretti a proposito ad esempio queste qua appunto l'album di foto dei trolls o comunque tutte le altre cosine che vedremo dopo i lavoretti fai da te ecco inviateci le foto su instagram si adesso arriviamo inviateci le vostre foto appunto dei vostri lavoretti fatti siamo molto molto curiosi su instagram e su facebook vero Pippo? si qua c'è da fare poi guardate in basso comunque inviateci nella nostra pagina appunto instagram e facebook perché siamo molto molto curiosi quindi inviate qua c'è la cosa in basso wow che bello il poster abbraccio in arrivo cioè guardate che bella Poppy in questa posizione bellissima wow quindi un altro posto da appendere poi cos'è? vedete un altro lavoretto che potete fare? posta del cuore wow evviva l'amicizia poi lettere d'amore andiamo a vedere un po' un segnalibro per te quindi avete anche un segnalibro ma guardate Benji quindi potete inviarci veramente tantissime foto si Branch e Poppy bellissima e qua cinque parole puzzle al buio wow ah qui continua la storia davanti ah qua cosa c'era la storia ancora si ok poi a caccia di troll qua c'è un altro giochino da fare poi ah il film più felice dell'anno già disponibile in dvd e blu ray negli store digitali noi l'abbiamo visto bravissimo e Pippo l'abbiamo visto ed è bellissimo è piaciuto un casino veramente scriveteci nei commenti se anche voi avete visto il film dei troll aspetta Pippo vediamo questo qua cosa c'è no aspetta vediamo un po' cosa c'è qua ah ok le email e i disegnini che hanno mandato i bimbi poi ah il prossimo numero dal 22 aprile vediamo un po' che cos'è wow in regalo il nastro di Poppy c'è wow ragazzi assolutamente dobbiamo prenderla quindi spolliciate mettete tantissime pollici in su se volete appunto che vi recensiamo l'altra rivista dei trolls che uscirà il 22 aprile e poi cos'è questa qui Pippo cos'è ah una ruota wow comunque tantissimi lavoretti si tu intanto apri il regalo vediamo la storia sticker del film che bella quindi c'è anche Pippo c'è anche l'album con tutti gli sticker adesivi corri in edicola bellissimo allora vediamo un pochino come dei post-it dei post-it si ragazzi guardate che carino appunto qua ci sono dei personaggi dei troll tra cui Poppy bellissimo io loro Poppy ragazzi ah e qua ci sono i vari post-it wow bellissimo assolutamente ragazzi guardate lo useremo questa qua ci ho andato schiacciare sto tasto pit e mi potete mettere le cose si la troll e mi potete mettere questi bravissima potete metterci i post-it dentro ma comunque anche le altre cosine vediamola un po' insieme questa troll love ma nel frattempo io apro qua lì super win bravissima intanto tu apri quella lì che carina coi cuoricini qua c'è Branch e Poppy ah i due cuoricini e poi c'è appunto qui si apre mi voglio fare una cosa in super win bellissima ragazzi qua c'è adesso anche per guardare qua dietro mi voglio fare cosa qua c'è il jet che mi abbiamo recensito ah bravissimo Pippo ha ragione guardate qua dietro la rivista appunto di super wings fa vedere il jet quello lì che parla che vi abbiamo recensito bellissimo vero Pippo quel jet quindi andate a vedere quel video vi lasceremo lì qua sopra ma anche qua sotto l'info box andate a vederlo allora dopo il gadget come andiamo subito alla rivista e appunto qual è il premio di questa rivista Pippo la sacca bravissimo lo zaino da viaggio allora questo qui sempre 3,99 euro questo qui è il numero di febbraio a breve arriverà anche quello di marzo ve lo recensiremo comunque mettete tanti pollici in su se volete quello di marzo sempre della pompon Pippo gli piace la troll love è bellissima sempre della pompon vola Venezia quindi finalmente Italia vediamo un po' vediamo un po' allora sommario benvenuto aspetta Pippo togli la troll love se no non ci sta perfetto allora vediamo un po' in gondola naturalmente questa rivista appunto adesso questa qui di Venezia fa da tantissime informazioni sulle sulle varie città quindi è bellissima imparerete tante cose dei quiz è tutto su poll guarda Pippo un po' carnevale arrivo poi Italia appunto qua vi fa scrivere anche il nome occhio alla tavola qua c'è da colorare il poster ti piace Pippo? yeah Pippo ancora incantato dalla troll love poi poi Dragon Trainer l'abbiamo recensito anche questo bravissimo Pippo avevamo recensito tutte queste due cosine quindi questo qui di Dragon Trainer e anche questo qui di Dino Trax quindi vi lasceremo i link dei video andateli a vedere getta 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 l'Italia vai cartoline dal mondo bravissimo il playset e poi questo qui che vi avevo recensito qua lo sticker dei trolls ecco la ricetta qual è? biscotti in maschera wow ragazzi dovrebbero essere queste cosine qua quindi mi raccomando mettete tantissimi pollici in su se volete questa ricetta qua i biglietti dei bimbi e noi la faremo presto guarda i bimbi bimbi bravissimo i disegnini dei bimbi che belli biscotti e poi la lettre ah ah si il passaporto del giramondo a compilare guardate con Paul con Paul dice Venezia con Paul ah e poi qua cosa c'è? un albo magico da colorare con il pennarello svela colori di Thomas ah no noi vi avevamo recensito il libro bravissimo noi vi avevamo recensito il libro proprio questo qui giallo di Thomas nella nostra sezione libreria quindi andatelo a vedere e poi qua bravissimo il prossimo numero vediamo un po' che è già uscito 25 marzo ha la maschera la maschera di Jet oppure di di Itzy dipende wow perfetto adesso vediamo il gadget ciao grazie dovete mettere l'hai vista si ah prima di tutto facciamo vedere no io vado a scuola ah ok si questo qui appunto lo zaino da viaggio quindi potete diventare dei perfetti esploratori guarda che bella con appunto tutti i super winks tutti i personaggi e poi appunto è quella che si chiude aspetta Pippo si chiude così vai adesso Pippo ci metterà le sue cosine allora ecco qui tutto quello che abbiamo trovato oggi bravissimo Pippo quindi eccole qua le nostre due riviste quella dei troll con la sua troll love box bellissimo poi la rivista dei super winks e la sacca lo zaino da viaggio quindi che dire Pippo ti sono piaciute? si si sono veramente bellissime riviste bellissime giochi bellissimi sorprese fantastiche quindi ok più di così ragazzi non si può avere sono veramente straordinarie ok quindi correte in edicola assolutamente Pippo ok mi sono addormentato un ottimo ok allora inoltre oggi vorrei salutare alcuni di voi bravissimo e in particolare un segreto da favola Mino Martinelli Doina Ataev Giacoma Ginosa Soraya Di Palma Lorenzo e Raffaele Pio Busiello Bellone Ilenia Sirio Torpedine Sera Adesivo Baraba o Barbara ho scritto un po' male quindi non capisco tantissimo Bunone quindi un grande se lo bacio a te Marcus Potter che vuole essere salutato da Pippo ciao Marcus e i Potter ok poi Marta Balsamo Sara Mastrogiovanni Asia Apolito Giorgia Cascavilla Ben Ali Lide Ilenia Sara Pezzato e Desiree Siciliano che vuole essere salutato da Pippo ciao Desiree Siciliano ok manda un grosso bacio su me oggi vi faremo Catania ok quindi ragazzi un bacio un abbraccio grandissimo a tutti tutti voi mi raccomando ricordatevi di inviarci nel nostro profilo Instagram chiamato Tine Pippo Review e Facebook sempre Tine Pippo Review comunque i due link magari ve li lasceremo qua sotto nell'info box le vostre foto dei vostri lavoretti fatti e poi tra un po' ci sarà la puntata se mettete tantissimi pollici in su ci sarà la puntata di Cucina dove faremo appunto la ricetta che vi ho visto se mettete solo mille pollici tantissimi pollici in su quindi se è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su se siete rischietti in su tanti e resta 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 boomba bravissima Pippo rossettaci bellissimi commenti come fate sempre noi vi ringraziamo tantissimo e quindi saluti da Tina e i per amici al prossimo video ciao 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 ciao